Di modelle, di concorsi di bellezza, si chiama Letizia Mobilia e di Sciacca è partecipare alla finale nazionale di Ragazze Cinema Ok 2017 che si svolgerà alla Reggia di Caserta. La 31esima edizione è in programma il 6 e 7 ottobre in diretta televisiva su Sky e sul canale 158 di Italia Mia, la Sicilia. Oltre alla secenze Letizia Mobilia che vedete in questa foto sarà rappresentata da Noemi Guarino di Casalvetrano, Sofia Gargano, Erika Mauro, Giorgia Crimi, Alessia Genna di Marsala, Angelica Oliva di Villa Franca Sicula e Marta Zicchitella di Petrosino.